Maestro, sembrate nutrire un debole per i mandaloriani, volete parlarne? Beh, se devo essere sincero, i mandaloriani sono famosi per i jetpack. E sai cosa fanno i jetpack, Anakin? Oh, la prego. Ti fanno stare più in alto. Ma non credo che il funzionamento sia... Sono più in alto di te!